Un saluto a tutte e tutti. Un altro dei temi caldi del momento, oltre alle conseguenze dell'andamento climatico sulle culture e su cui torneremo nelle prossime settimane, è la PAC, o meglio la nuova PAC, Politica Agricola Comune, che dovrebbe entrare in vigore nel 2014. Come già detto, il condizionale è d'obbligo perché proprio in queste settimane Commissione, Consiglio e Parlamento europeo ne stanno discutendo a Bruxelles ed è probabile, anzi quasi certo, uno slittamento al 2015. Di questo, ma anche di progetti per la promozione della frutta estiva, parleremo nel focus di oggi. Nella parte tecnica di nuovo Cleliatosi con gli aggiornamenti sui modelli previsionali e il medico delle frutticole. Abbiamo incontrato Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, a un convegno organizzato da Regione Emilia-Romagna e CSO, Centro Servizi Ortofrutticoli, e dedicato alla frutta estiva. E gli abbiamo chiesto a che punto sono i cosiddetti triloghi sulla PAC, gli incontri informali tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. E cosa succederà entro giugno, cioè entro la fine della presidenza irlandese dell'Unione europea. Il tutto per capire quale impatto economico avrà questa nuova PAC sulle aziende agricole italiane. Noi abbiamo bisogno di raggiungere dei risultati negoziali in questa settimana, nella prossima settimana. Non possiamo lasciare tutto l'ultimo giorno, l'ultima notte, come normalmente fa il Consiglio dei Ministri. Per questo noi ci aspettiamo sia nel dossier di pagamenti diretti, sia nel dossier dell'OCM Unica, sia nel dossier del finanziamento e controllo e monitoraggio, perché questa settimana avremo triloghi su tutti i dossier, ci aspettiamo risultati concreti, cioè che vengano fuori i primi accordi Parlamento-Consiglio che ci consentano poi magari di lasciare qualche punto l'ultima settimana, ma non tutti, perché il modo di lavorare del Parlamento richiede una digestione di questi accordi prima. Ricordiamoci che l'accordo politico che raggiungeremo, se lo raggiungeremo entro giugno, entro presidenza irlandese, è sempre sottoposto a un voto in Commissione Agricoltura e in plenaria. E se noi non facciamo una buona digestione di questo accordo politico, non è detto per niente che passi né in Commissione Agricoltura né in plenaria. Quindi è molto molto importante che il Consiglio, e ovviamente con l'aiuto della Commissione, ci faccia raggiungere negoziati conclusivi in questa settimana e non rimandi tutto all'ultima notte dell'ultimo giorno. Quali sono i punti su cui ancora non ci accordo con Consiglio e Commissione e quindi su cui vi state battendo? Tantissimi. Noi vogliamo l'aiuto ai giovani agricoltori, per esempio, obbligatorio, non lo vogliamo facoltativo, lo vogliamo obbligatorio, invece il Consiglio lo vuole facoltativo. Noi vogliamo sull'agricoltore attivo, al di là della chiara e comune volontà di lasciare allo Stato membro la decisione di definire il profilo dell'agricoltore attivo, però vogliamo che la lista negativa, cioè quelli che non devono percepire aiuti PAC, sia obbligatoria. Il Consiglio lo vuole facoltativa. Ricordiamo che la proposta della Commissione sugli agricoltori attivi prevede che non siano concessi aiuti agli agricoltori per i quali i pagamenti diretti rappresentano meno del 5% delle entrate da attività non agricole, oppure che possiedono per lo più aree sulle quali non svolgono l'attività minima richiesta. Queste condizioni minime dovrebbero essere stabilite da ciascuno Stato membro. Tra le disposizioni non si applica a quegli agricoltori che l'anno precedente abbiano ricevuto meno di 5.000 euro. Per i piccoli agricoltori, invece, la Commissione propone pagamenti semplificati. A partire dal 2014, fino al 10% del massimale nazionale dei pagamenti diretti può essere destinato agli agricoltori sotto forma di aiuto forfettario per un importo massimo inferiore al 15% della media nazionale dei pagamenti per beneficiario, oppure pari a tre volte la media nazionale dei pagamenti per ettaro. Tali pagamenti saranno sottoposti a controlli semplificati dietro apposita domanda da presentare solo il primo anno. Il Parlamento europeo che cosa chiede per i piccoli agricoltori? Noi vogliamo un aiuto anche lì che sia sì volontario ma secondo determinate soglie e non scendere sotto determinate soglie di aiuto. Noi vogliamo escludere le coltivazioni arbore dall'applicazione del greening, un tema molto mediterraneo, italo, spagnolo, francese, greco, portoghese. Non accetteremo mai un greening che rischi di smantellare gli arboreti, mai, che si tratti di frutta, di oliveti, di agrumeti, deve essere applicato senza questo rischio. Quindi greening automatico per le culture arbore o comunque esclusione delle culture arbore dall'applicazione delle collegi gal focus area, cioè del set aside obbligatorio che è previsto dalla Commissione. Poi ci sono tantissime cose nell'OCM, noi vogliamo i diritti di impianto fino al 2030 e poi vogliamo una quote zucchero fino al 2020 e poi vogliamo una OP più forti, più competitive. Ma sul budget lei che valutazioni fa? Ci sarà effettivamente questo calo? Che cosa aspettarsi? Io sono assolutamente certo che il Parlamento europeo difficilmente potrà in questo braccio di ferro col Consiglio modificare le cifre assolute. Quello che noi chiediamo, e credo che sia un fatto assolutamente sacrosanto, è che ci sia nell'accordo finale una clausola di revisione che tra due anni ci si deve rincontrare i capi di Stato di Governo e il Parlamento per ridefinire il bilancio pluriannale, perché ci auguriamo e speriamo che la situazione economica internazionale e la situazione europea ci consenta di rivedere le cifre del negoziato pluriannale al rialzo tra due anni. Mentre i capi di Stato di Governo vogliono un bilancio chiuso fino al 2020. Ne riparliamo nel 2020, noi vogliamo che se ne riparli tra due anni. Questa è la clausola di revisione, è un punto molto fermo per il Parlamento. Come altrettanto fermo il secondo punto del Parlamento è la flessibilità. Vogliamo che alla fine di ogni anno il Parlamento abbia facoltà di intervenire sulle somme non spese, che queste non vadano agli Stati membri, ma che sia data flessibilità per gestire questi residui nelle politiche che hanno maggior bisogno. Ma secondo lei quando entrerà in vigore questa PAC? Certamente non prima del 1 gennaio 2015, questo lo possiamo mettere già per iscritto e chiaro. È evidente che il filo è molto labile. Se non chiudiamo entro la presidenza irlandese possiamo chiudere sotto presidenza lituana, ma non possiamo andare oltre. Quindi per il 2014 ci varranno le stesse regole che valevano fino al 2013? Assolutamente sì, per i pagamenti diretti è semplicemente uno slittamento. Per lo sviluppo rurale c'è questo testo proposto dalla Commissione transitorio che evidenzia le modalità con cui gli Stati membri potranno far slittare i programmi del 2013 per un altro anno. Una sorta di N più 3 con risorse aggiuntive. Anche qui non facciamo l'errore che ho letto qualche volta sui giornali italiani che nel 2014 ci sarà sviluppo rurale senza soldi. Ma avremo un settesimo di risorse in più per gestire quell'anno in più. Con un minimo di adattamento ovviamente perché non si potranno fare i programmi nuovi per un anno in più si dovrà utilizzare i programmi vecchi che slittano di un anno. La Commissione europea ha pubblicato il 18 aprile le misure transitorie per garantire nel 2014 i pagamenti diretti e la continuità degli investimenti nelle aree rurali. Per il 2014 viene prorogato il quadro amministrativo per effettuare i pagamenti alle aziende agricole mentre viene ridotto il bilancio dei pagamenti per tener conto dell'accordo politico raggiunto dal vertice dell'Unione europea nel febbraio scorso sul bilancio 2014-2020 bilancio che comunque dovrà avere l'ok dell'Europarlamento. In base ai calcoli della Presidenza irlandese la montare dei pagamenti diretti alle aziende italiane passerà da 4,02 a 3,95 miliardi di euro. L'accordo di febbraio prevede infatti un taglio di 830 milioni sui fondi all'agricoltura per il 2015 con cui Bruxelles deve pagare i contributi 2014 agli agricoltori. Il commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos ha anche indicato che sempre su quei pagamenti applicherà già dal prossimo anno la misura sulla convergenza dei contributi tra stati membri convergenza che va a beneficio dei nuovi partner europei. A questo riguardo l'Italia limita i danni. Gli aiuti alle aziende passeranno in media da 400 a 380 euro per ettaro rispetto ad una media europea di 260 euro per ettaro. La nuova PAC è stata anche al centro di un incontro organizzato dai giovani di Coldiretti Ferrara lunedì scorso e a cui hanno partecipato il presidente provinciale Sergio Gulinelli e quello dei giovani Alessandro Beltrami che noi abbiamo intervistato poco tempo fa. Anche in quell'incontro, come nel nostro focus di oggi, si è cercato di capire in quale direzione andrà questa nuova PAC e cosa comporterà per le imprese agricole ferraresi. Naturalmente di PAC torneremo a parlare appena ci saranno novità.